Ciao ragazzi, sono tornato con un nuovo video. Scusate per la piccola assenza, ma ho avuto un problema con la mia password di YouTube che non me la riconosceva. Comunque, il problema tra virgolette l'ho risolto. Sono qui per farvi vedere le mie nuove applicazioni. Vi dico subito che le applicazioni nuove sono principalmente dei giochi, perché prima avevo 9 giochi, adesso sono 10. Però ne avevo eliminati la metà perché non li utilizzavo più, mi ero reso conto che ne utilizzavo solamente la metà, quindi ne ho scaricati degli altri che mi piacciono di più. Iniziamo subito con il primo che è più conosciuto, che è Geometry Lit, che è questo triangolino che deve saltare e evitare questi spuntoncini. Vabbè, è semplicissimo, si clicca sullo schermo e si salta, si tiene premuto e si salta in continuazione. E c'è proprio da sbizzarrirsi, io mi sono flippato tantissimo con questo gioco. Poi, un altro, vado un pochino veloce perché è la seconda volta che faccio questo video e mi è venuto troppo lungo. Poi, Mr. Krab, che è un'applicazione che è fatta proprio bene, cioè ha una grafica sorprendente, ha dei colori davvero fantastici proprio. Questo è il mondo foresta del salto, si chiama, e questo granchio deve percorrere un sentiero, come potete vedere, a spirale, possiamo dire, raccogliere punti prendendo queste mele e andare fino in cima. Così si può essere considerato concluso il livello. Ci sono queste freccette così per evitare di andare contro mano, possiamo dire, però c'è sempre uno stato che ti riporta indietro. Qui bisogna sfruttare i muri per saltare più in alto, vedete? E queste mele colorate e anche il nido, adesso non so come farvelo rivedere, ecco questo nido qui fa da molla. Sto andando contro mano, c'è questi ragni e i gufi che sono un ostacolo, perché basta andarci in contatto e ti portano giù. Però basta saltarci sopra e, insomma, si possono considerare morti, insomma. Poi si incontreranno altri granchietti più piccoli che bisogna portare con sé, come potete vedere. Ecco questi gufi, comunque avete capito. Ah no, vi faccio vedere anche l'altro mondo, perché c'è anche un altro mondo che è sott'acqua, possiamo dire. Si chiama Parti da spiaggia. Come potete vedere la grafica è cambiata, siamo sott'acqua, possiamo dire. Le mele non ci sono, ci sono solamente queste bolle per prendere punti. Ora, sto andando contro mano, eh. E qui ci sono le ostriche che fanno da molla, vedete? E si va sempre più in alto. Qui ci sono questi ricci che devono essere uccisi subito, altrimenti considerano un ostacolo. E poi ci sono anche le stelle marine che sono un ostacolo. Adesso vediamo un po' se riesco a farvele vedere. Ecco. Che io all'inizio pensavo fossero una salvezza le conchiglie, sì, le conchiglie. Questa conchiglia qui aiuta a neutralizzare, possiamo dire, le stelle marine. Che io all'inizio pensavo fossero un beneficio, invece sono un ostacolo. Nel senso, sono come, come si dice? Sono come, ecco, sono degli ostacoli, sono come dei gufi, per esempio. I gufi e i ragni. Comunque questo gioco, non so se si è capito, ma mi piace davvero tanto. Infatti sono andato troppo sul dettaglio. Un'altra applicazione è 100 balls, o 100 balls, se vogliamo dirla all'inglese. Che in cui c'è questo imbuto, che ha 100 palline. E bisogna centrarle, cliccando sullo schermo, sui bicchieri. Le palline che vanno al di fuori dei bicchieri saranno perse e non torneranno più. Possiamo dire così. E si continua. Sembra banale, in realtà a me piace, perché l'obiettivo è quello di raccogliare più punti, quindi per battere il proprio record. Come vi faccio vedere, il bicchiere vuoto se ne va. E man mano che si raccoglie più punti, l'andamento dei bicchieri è sempre più veloce. Ok, lo sto facendo poi a caso, sarei più bravo, possiamo dire, però, giusto per farvi vedere una dimostrazione. Poi, questa applicazione che si chiama Jump, questo giochino molto semplice. Questo gioco ha molti annunci che arrivano all'improvviso, quindi se succede, scusatemi. Come si vede nel logo, ci c'è questa pallina che bisogna orientarla verso la fine del livello. Ha questa piattaforma bianca che è fissa. Queste qui, trasparenti, basta semplicemente saltarci due o tre volte e spariscono, perché non sono permanenti. Ha questi comandi, le frecce a destra e a sinistra. La freccia in alto è abbastanza toccarla e sale fin quassù. E l'obiettivo è prendere queste due chiavi, arriverà una scritta Exit per dichiarare concluso il livello. Ora non ve lo faccio vedere più di tanto, perché non sono molto pratico. Nel senso, questo qui è il gioco che ho scaricato un giorno fa, quindi se magari non sono molto bravo, non so, scusatemi per quello. Comunque, ho preso la chiave, qui Exit, dovrei tornare indietro e il livello può essere considerato finito. Ecco. To, ce l'ho fatta! Questo qui non l'avevo mai... To, ho superato un livello con voi, perché io da solo non ce l'ho fatta. Poi un'altra, Angry Shark, che ci vuole la Wi-Fi. Ho messo la modalità aereo così per evitare che ogni messaggio chiamata possa interrompermi il video. Comunque, metto la Wi-Fi un attimo, poi se arrivano qualche messaggio, vabbè, scusatemi. E vi faccio vedere questa applicazione qui, ho sbagliato. Angry Shark, che... Hungry Shark, ho sbagliato. Hungry Shark vuol dire squalaffamato. Angry Shark vuol dire arrabbiato, ho sbagliato. Ho sbagliato, oddio, con questo inglese. Comunque, noi siamo uno squalo e deve cibarsi di pesci e di tutto quello che c'è sotto il mare. Però bisogna evitare le bombe e un pesce bianco e rosso a strisce che non so come si chiama. Vabbè, forse se lo incontriamo proprio adesso ve lo faccio vedere. E bisogna anche evitare le meduse, perché altrimenti, cioè, uccidono le meduse. Basta mangiarle e, come potete vedere, questo rettangolino verde rappresenta un pochino la vita. E poi ci sono anche questi umani che basta mangiarli e ti danno un sacco di punti. Quindi magari bisogna essere un pochino cannibali. Ecco, ci sono anche gli squali che bisogna fare attenzione perché se ti mordano sulla coda ti penalizzano. Ecco il pesce che non bisogna mangiare. Non so che pesce è. Boh, forse non esisterà nemmeno. Comunque, per muoversi basta cliccare sullo schermo e per andare più veloce se clicca con due diti, insomma. Comunque questo gioco mi piace davvero tantissimo. Ce l'avevo anche per l'iPod, però per questo telefono l'ho scaricato solamente una settimana fa. Poi ho Twist, che è l'ultima applicazione. Sto parlando troppo, siamo 8 minuti. Comunque, è una pallina e bisogna saltare da una piattaforma all'altra. Vedete, basta semplicemente cliccare. Ecco, ho sbagliato. Basta. Basta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.